Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e sono il profeta fatato del giardino che non c'è, ma come vedete oggi non sono nel giardino che non c'è. Sembra ovvio, non possiedo una montagna! Oggi è il 29 maggio 2021, ma oggi facciamo ben due frasi del giorno, perché non sono riuscito a fare quella del 28. Quindi, prima la frase del 28. Eccola qua, ve la mostro! La frase del 28 è di Logan Pershal Smith, saggista e critico britannico. Lasciate che ve la legga. Nella vita esistono due grandi obiettivi. Il primo, ottenere ciò che si vuole. E il secondo, goderselo. Solo i membri più saggi dell'umanità riescono a fare la seconda cosa. Vabbè, tralasciando il commento finale sui più saggi dell'umanità, beh, nella vita esistono due grandi obiettivi. Il primo, ottenere ciò che si vuole. Il secondo, goderselo. Perché questa cosa mi fa subito pensare alla ruota, alla ruota dei beni immateriali di cui parlava Schopenhauer. Schopenhauer, nella sua filosofia, molto semplicemente diceva che una volta che abbiamo ottenuto l'oggetto del nostro desiderio, ci soddisfa per 5 secondi e poi passiamo a desiderare altro. Quando otteniamo quello che abbiamo desiderato poi, lo otteniamo, ci soddisfa per 5 minuti e si va così all'infinito finché l'essere umano o muore o impara a distaccarsi, a essere soddisfatto senza desiderare. E quindi sì, insomma, il primo, ottenere ciò che si vuole. Il secondo, goderselo. Però io sono molto più, come dire, Schopenhaueriano, scusate il termine, perché appunto, goderselo, imparare a godersi le cose, beh, fondamentalmente mi fa pensare alla gratitudine questo. Perché solo quando sviluppiamo gratitudine per quello che abbiamo riusciamo a godercelo. Quando non sviluppiamo questa gratitudine ci dimentichiamo che nulla ci è dovuto e allora iniziamo un nuovo ciclo di desiderio. Perché dal momento in cui siamo fondamentalmente grati di quello che abbiamo nella vita, non desideriamo realmente altro. Perché abbiamo ben visualizzato che tutto quello che abbiamo nell'averlo, in realtà un'illusione, praticamente ci è arrivato come dono dall'alto. E quindi goderselo. In realtà penso che sia il primo obiettivo. Prima dovremmo imparare a godere del poco che abbiamo e poi dovremmo imparare ad ottenere ciò che vogliamo in quest'ordine. E sennò si fa confusione e ci si dimentica di essere grati per quello che si ha. E si cade in quella spirale di Schopenhauer di cui dicevo prima. Ma adesso passiamo alla seconda perché sennò poi passo venti minuti sulla prima. Oggi è il 29 maggio 2021 e la frase di oggi è questa. Di Giorgio Faletti, un italiano nel calendario filosofico. E Faletti scrittore, attore, cantante e comico, filosofo, ditemelo un po' voi. Comunque la frase di oggi lasciate che ve la legga. Ho sempre sostituito la paura di non farcela più con la speranza di farcela di nuovo. Ho sempre sostituito la paura di non farcela più con la speranza di farcela di nuovo. Una bellissima frase, molto poetica, ma devo dire che questa frase poetica in realtà mi fa pensare immediatamente al fatto come a un certo punto della vita di ognuno di noi le emozioni diventano qualcosa di cui essere responsabili. Ora secondo alcuni le emozioni, i sentimenti sono una risposta all'ambiente circostante, quindi insomma non abbiamo scelta nei confronti delle emozioni, sono qualcosa che vengono da fuori. Il che è vero, ma è anche falso, perché è vero che l'emozione è come uno spirito che ci possiede, che ci entra dentro, però noi dal momento in cui sentiamo questa emozione possiamo scegliere se farla nostra. E a quel punto avviene la responsabilità, perché poi si sa, ogni responsabilità è collegata a un potere, a una possibilità. E quindi io non posso magari scegliere o controllare se questa emozione mi possiede, ma posso scegliere se agire in conseguenza di questa emozione che mi possiede. Posso scegliere se identificarmi con questa emozione e quindi posso scegliere la paura di non farcela o posso scegliere di lasciarla scorrere al di fuori di me e invece tenere al di dentro, all'interno di me, la speranza di farcela di nuovo. Molto bella questa di Faletti, mi piace molto più di quella di Smith onestamente. Bene, miei cari spettatori, miei cari psicocriminali. Grazie per l'attenzione, grazie per la visione. Io come vedete qua ho una montagna da scalare, quindi non mi dilungo oltre. Come vedete è un paradiso a 365 gradi. E quindi niente, vi auguro di venire qui pure voi. Non vi dico dov'è, scopritelo con Google Maps e per il resto che devo dire? Come sempre, alla fine dei miei video, vi auguro il meglio e solo il meglio e vi saluto fino al prossimo video. Ciao!